Nel video precedente, che è anche il primo di questa playlist, abbiamo visto come implementando un concetto di un oggetto del mondo esterno sotto forma di codice nel nostro sorgente, si vada incontro a alcune inefficienze e rischi, che ora cercheremo di superare. Vediamo allora come potremmo andare ad implementare il concetto di dado usando la OP e una classe per rappresentarlo. A questo punto posso anche fare lo spavaldo, lo spaccone, dicendo che sarà talmente impossibile confondere le variabili e i comandi relativi per il dado, che posso farlo ancora qua direttamente, senza necessariamente, cosa che poi viene fatta comunque, spostare il codice che descrive il dado in un secondo sorgente. Ecco la capsula, ho commentato l'include per escludere chiaramente e non avere sovrapposizioni di alcun tipo. Sto descrivendo, definendo la classe dei dadi, un dado, quindi un dado inizia qui, con questa graffa e finisce qui. Occhio anche a ricordarvi del punto e virgola, è un po' come con l'Estrac. Nella classe vado proprio a descrivere quello che è chiamato lo stato interno, cioè le strutture dati, come le variabili predefinite, tipo float, int, double, string, quelle rimangono, tipi scalari, cosiddetti tipi scalari. E altre, perché potrei definire nello stato interno di un dado, di un oggetto, altri oggetti, non so, sto definendo il concetto di mouse, all'interno vado a descrivere quella che è la rotellina, un sistema di puntamento, se c'è la fotocellula, la pallina. Quindi posso, come avviene nell'industria, ricordate il punto di partenza, introdurre criteri industriali nello sviluppo del software. Cioè, come quando io vado ad assemblare una schedina elettronica, non mi sognerei mai di andarmi a reinventare da zero un diodo, una resistenza. Sono cose che vado praticamente al supermercato e me le trovo in regalo col dentifricio, talmente sono standard. Prendo un qualsiasi diodo, che rispetta lo standard, lo incastro su una schedina, e d'accordo, faccio una mia schedina. La stessa cosa qua, io vorrei poter trovare, e ci sono, quindi classi da prendere a colpo sicuro, proprio perché non faccio confusione, grazie ai meccanismi della OOP che ancora dobbiamo approfondire, e posso integrare quegli oggetti, quelle classi, nei miei progetti, in modo molto più efficiente, molto più sicuro, di quello che comunque, ovviamente, posso continuare a fare con le librerie tradizionali. Ma è un salto di qualità, e spero un po' alla volta di convincervi di questo salto di qualità. Però con una grossa premessa. Non dovete pretendere di cogliere il vantaggio con piccoli progettini di prova. Quali servono a capire come funziona. Ma tu i vantaggi, è fondamentale, se non ti dici, tutto sto fumo per... I vantaggi li cogliete su progetti di media, grande complessità, e soprattutto quando comincerete a fare varianti di quei progetti, a voler trasportare quelle classi in un altro ambiente, a personalizzarle perché dovete aderire a delle specifiche diverse. È lì che cominciano a vedersi i vantaggi, quando dovete lavorare a livello di manutenzione, di modifica. Su piccoli progetti, tre classi in croce, come si dice, per fare qualche prova, imparare la OP, a lì non la tastate il vantaggio, anzi, vi sembrerà di scrivere anche di più, ed è vero, ma è quel di più, che quando avete tutto il resto, è come se conta. Quindi lavori un 110%, ma quando serve, guadagni il 1000%. Dovete fidarvi, non vi fidate di me, scaricate da internet i sorgenti di progetti importanti, anche di videogame come Doom 3 o altri che vengono rilasciati. Aprite, guardate, ci troverete, cosa? Classi, per definire i personaggi, i componenti del gioco, ma anche di quasi tutti gli altri programmi, sapete. E allora, un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà, se anche il JavaScript, il PHP, e quasi tutti i linguaggi che non sono nati, nativi con l'OP, fin alle radici del loro DNA, hanno prima o poi dovuto introdurre queste tensioni. Non è solo come moda, per non essere tagliati fuori. Sì, qua e là, forse, si può storgere un po' il naso sull'effettiva utilità di certi ambiti applicativi, ma in generale è come se si viaggia con l'OP. E questo è il grosso secondo problema che ci risolve l'OP. Uno è appunto l'ordine, l'incapsulamento, l'altro è il riutilizzo del codice, ma ne parleremo più avanti, ma è la seconda gamba della OP che è l'eritarietà, ma non voglio anticipare troppo i tempi. Si diceva, quindi, stato interno. E beh, rimettiamoci più o meno le variabili di prima, ma già posso impostare il tutto come una maggiore flessibilità. Non fisso il numero di facce, dico, guarda, io ho un qualche cosa internamente che mi descrive, mi dice quante facce ha il dado, e quindi un numero facce. Prima variabile dello stato interno. Poi, dico, un po' come se fosse il colore di un oggetto, qua invece che cosa ho? Ho il valore che ha il dado in questo momento, che corrisponde in pratica a ciò che ha in questo momento, che avrà nel momento in cui vado a interrogarlo, a investigare lo stato del dado. Lo creo, lo uso, a un certo punto voglio vedere qual è l'ultimo valore uscito, è lì, è come se il dado fosse lì sul tavolo, che mi mostra ancora la faccia con il suo valore. E quindi mettiamo un int valore, si intende il valore dell'ultimo lancio eseguito. Information hiding, ricordate, è talmente importante che nessuno possa pasticciare dall'esterno, intendo un altro programmatore, no? Che definisce da qualche parte un oggetto, una variabile di tipo dado, di classe dado, e che non vada a pasticciare con quello che è stata l'idea di implementazione del programmatore che ha realizzato la classe. Tanto importante, dicevo, che di default le variabili descritte nello stato interno, se non dico esplicitamente che si possono vedere dall'esterno, sono nascoste, sono, si dice, private, o private in inglese. Non devo fare nulla, perché è lo stato naturale, devo avere un forte motivo, ma è sempre una mezza pazzia, rendere l'accesso pubblico, perché l'accesso pubblico vuol dire che uno può andare a modificare i valori delle mie variabili, del mio oggetto, della mia classe, in modo insulso, strambo, sbagliato. Invece lo permetterò solo chiamando una funzione. Perché? Perché la funzione può fare dei controlli, è molto semplice. Ma anche le funzioni che vado a definire qua dentro, vedete, sono ancora nello stessa capsula, tra le due graffe. Sto per scrivere la funzione che lancia il dado. Anche la funzione può essere ad uso privato interno di una classe. Ce ne sono 2000, alcune sono importanti, ma andrebbero a confondere l'utente, sempre programmatore, io gli faccio vedere soltanto le 10-15 che sono quelle buone, necessarie per usare bene la mia libreria di oggetti. Non tutte. Ecco perché anche una funzione, e in generale si parla di metodi, nella terminologia più corretta per la OP, i metodi, cioè dai le funzioni per quella classe, sono default ad accesso privato, cioè non le potrei neanche invocare. Ho l'oggetto, su quell'oggetto non posso chiamare il tal metodo, il tal comando, tal funzione, se non è pubblica. E devo rendere pubblica gli oggetti in modo esplicito, e, perdono, variabili del stato interno, o metodi in modo esplicito, come con lo specificatore public, due punti, e poi quello che segue è ad accesso, appunto, libero. E' qui che andrei a mettere quindi il metodo INT, posso anche copiare a questo punto, eccolo qui, ma come è semplificato, vedete voi, sì, perché potrò in modo più elegante risolvere il problema, ah, ma è già stato chiamato essere END, e adesso capirete perché, tra pochi secondi. Fermiamoci un attimo ad osservare quello che abbiamo fatto. Abbiamo definito una capsula, una classe, e guardate come è già evidente, qua non posso sbagliare, da qui a lì, finito. Tutto quello che definisce dado come caratteristiche, comportamento, ce l'ho qua. Prendo copio, sposto in collo, modifico, non posso sbagliare. Non solo. Andiamo a vedere di dare un significato in più quel non posso sbagliare. usiamo un po' questa classe. E di fatto, dicevo, un tipo nuovo, per cui, se è vero quello che sto dicendo, devo poter dichiarare variabili come se quella parolina lì, quella keyword, dado, fosse un float, un int, double. Cioè, se è vero, posso scrivere, e già me lo propone, vabbè, me lo proporebbe comunque l'editor, dado, non so, ho un primo dado, o di uno, primo dado di uno, e così il compilatore dovrebbe considerare questo oggetto avente questa struttura, quindi due sue variabili, un numero facce e un valore. Attenzione, so benissimo che ancora non ho detto quante facce ha, d'accordo? Adesso vedremo poi come aggiungere questo concetto al dado. È solo a livello di come si definisce una variabile tipo dado. e far capire come queste qua non sono raggiungibili per quanto private, e questo qua che pubblico invece sì. Poi completeremo quello che manca. Proviamo a compilare. E, eh sì, certo, devo disabilitare adesso questo codice qua, c'è disabilito, lo cancello proprio. Ok. Ci riprovo. Ok. è ovvio, non vedo nulla perché non ho ancora fatto nulla, però la definizione della classe va bene, la definizione della variabile di 1 anche. Dov'è che mi accorgo che ho l'information hiding, quella protezione da sguardi indiscreti che sta agendo sulla classe dado, nei confronti di numero facce e valore? Dal fatto che se io scrivo di 1 l'oggetto, e quindi vediamo come poi si invoca, e come faccio a sbagliare, non posso usare lancio dado che posso richiamare solo così, è solo se quel di 1 è riconosciuto dal compilatore di tipo dado, come faccio a chiamarlo su un qualcosa che non è un dado? Su delle variabili, delle strutture dadi che non sono del dado, non posso, perché l'unico modo per chiamare il comando lancio dado è passare per questo di 1 che è di tipo dado, e se questo non fosse di tipo dado non vedrei, non potrei, mi direbbe non esiste quel comando sul, ok, e comunque vedo, mi propone col verde, cioè posso usarle, perché è vero che vedo anche numero facce e valore, oh ma il rosso dirà qualcosa, no? Questo lo posso fare, adesso non avrei molto senso perché non sono ancora definite quel max valore, si dovrebbe chiamarlo così, 6, e sarei io a decidere al volo quante facce ha, ma se posso anche int n uguale di 1 lancio dado, posso compilare e non dovrebbe darmi nessun problema, ok, ma se tento di ricopiarmi con lo stesso modo il valore di quella variabile dello stato interno della classe dado che è privata con un numero facce, si, posso anche scriverlo, posso anche autocompletarlo, ma quando vado a compilare ricevo una bastonata sui denti, dice, eh no bimbo, tu non puoi perché numero facce di dado, questo è lo specificatore d'accesso, quindi il membro, la variabile dello stato interno della classe dato di tipo intero denominato numero facce è privato, punto, tu non lo usi, non lo usi se no secondo un metodo pubblico o quelle tecniche che sono previste per fare questa cosa qua in modo sicuro. Cosa manca al termine di questo video? Un corretto modo per creare il dado e dire quali sono le sue facce e lanciare solo la prima volta il comando SREND. C'è un metodo, c'è una funzione, anzi, possono essere anche più di una e poi cercheremo anche di capire il perché, che è speciale per una classe, è il costruttore di quella classe. Quella funzione che io posso richiamare, anzi, se ne manca uno, ne viene creato uno automatico che non si vede ma c'è e che almeno crea lo spazio, lo occo, lo spazio per la variabile dello stato interno, quando, dicevo, lo vado a chiamare quando crea un oggetto. qual è il suo essere speciale? È non tanto come lo scrivo, poi lo vediamo tecnicamente a livello sintattico, ma che non posso bypassarlo, una volta che c'è, non c'è modo, non c'è verso di creare un oggetto di quella classe se non chiamando il costruttore. E cosa vuol dire? Perché è così interessante? È semplice. Se ci sono X cose importanti che devono essere fatte siamo nel gioco ogni volta che crea un dado devo andare a scrivere su un file qualche cosa bene, allora se tu lo fai fare al programmatore basandosi e fidandoti della sua memoria prima o poi si dimentica se invece tu quando vuoi creare un dado vuoi in automatico segnarti qualcosa su un file lo metti nel costruttore è importante calcolare altri valori è importante aggiornare qualcosa sul video ok, tu queste cose e vuoi che vengano fatte alla partenza bene, le metti nel costruttore cioè il costruttore è il salvavita quella cosa che estende il concetto di inizializzazione della variabile vi hanno spiegato vi ho rotto le scatole quando ho detto quando tu definisci una variabile puoi dare un valore e devi sempre inizializzare la variabile stessa int n uguale a 0 stringa stringa s uguale stringa nulla bene quello è un primo primo abbozzetto di inizializzazione qua estendiamo il discorso non solo dare un valore iniziale lo potrò fare ma ben di più posso chiamare fare 3000 controlli non so è una variabile che corrisponde al saldo in un conto corrente classe conto corrente e vorrei bene rendere automatico e migliorare la sicurezza dell'oggetto in modo che in automatico quando si tenta di accedere a quella cosa lì in automatico venga chiesta una password oppure ci sia un meccanismo di cifratura di cifratura automatico perché se non è automatico prima o poi qualcuno sbaglia qualcuno dimentica qualcuno abusa bene il costruttore è questo metodo che posso chiamare e se c'è non lo posso evitare quindi metto lì tutte le cose che è necessario scrivere per far partire bene inizializzato un oggetto punto ed ecco come si definisce il costruttore un costruttore intanto non ha un valore di ritorno quindi neanche void nulla poi bene ha per forza lo stesso identificatore della classe da class dado quindi tutti i costruttori della classe dado si chiameranno dado poi possono avere o non avere parametri mi è sembrato naturale forzare questo concetto se tu crei un dado mi devi dire quante facce ha e non c'è modo se non sono io a consentirtelo di creare un dado senza specificarmi questo valore dimmi quante facce ha che differenza c'è tra far assegnare direttamente al numero di facce un valore e farlo fare al costruttore che può fare dei controlli è una scelta io potrei dire no guarda se tu sbagli a crearmi il dado indicando un valore assurdo sono cavoli tuoi io stabilisco un contratto tecnica chiamata difensiva eh pardon è contrattuale per cui io ti assicuro che il mio dado funziona bene se tu quando crei il dado dall'esterno dai dei valori sensati e va benissimo però se invece preferite o è troppo rischioso fidarsi ecco la differenza con una funzione che viene richiamata in automatico e per forza senza possibilità di evitarla io faccio un controllo e dico ah calma un attimo ma il numero di facce che tu mi hai comunicato al costruttore quando vai a creare un dado poi vediamo sotto come si fa a creare un dado ma è maggiore di zero perché altrimenti non ha senso se è sì sto usando l'espressione condizionale allora il valore che assegno alla variabile numero facce è n facce cioè quello che tu mi hai detto 6, 7, 8, 10 mila se l'unico criterio è maggiore di zero è questo altrimenti assegno un valore sensato il tipo più comune è quello con 6 facce il classico dado con 6 facce e andiamo avanti ovvio che avrei anche potuto scrivere il più classico if n facce maggiore di zero allora numero facce assegna n facce else numero facce assegna 6 intendiamoci ho solo un pochino ottimizzato e che cos'era importante prima di cominciare ad usare il dado aaa che si chiamasse lo s srand eccolo qui in automatico non mi posso dimenticare non sono io che nel main o comunque devo ricordarmi di chiamarlo no no e non devo gestire il discorso se è la prima volta sapete perché? perché il costruttore del dado viene lanciato certamente per quel dado lì se ne creo poi 5 o 6 magari verrà lanciato più volte questo comando srand ma ho l'automatismo se uso un solo dado nel mio programma comunque l'srand viene chiamato una volta sola cioè quando creo il dado cioè quando viene chiamato quel costruttore e comunque anche per una classe posso programmare un meccanismo che faccia in modo che solo alla creazione del primo dado sia richiamato il comando srand però non voglio aggiungere troppa carne al fuoco ma c'è ancora una semplificazione sapete dietro l'angolo forse qualcuno ha già intuito ma quando lanci il dado a questo punto non c'è più bisogno di dire qual è il massimo valore perché il dado sa che ha tot facce eh assomiglia sempre di più a un oggetto vero devo mica dirgli di andare al massimo fino a 6 lo sa perché ho salvato nello stato interno del dado ogni dado automaticamente sa quante facce ha allora il metodo lancio dado che ha lo stesso nome per tutti in realtà lavora con lo stato interno diverso potenzialmente per ciascun dado e quindi andrò a sostituire al riferimento max valore il numero delle facce già controllato dal costruttore tra parentesi quindi numero facce così bene ancora più semplice e buttiamo adesso l'occhio sulla parte nel main ora che ho il costruttore che pretende un parametro mentre quello standard chiudeva un occhio e accettava zero parametri adesso no l'oggetto è più sicuro questo è il senso del costruttore io non ho modo di creare un dado senza dire quante facce ha e non è una cosa giusta forse non posso più scrivere questo perché il compilatore mi dice marameo no matching function for call to dado non c'è lo potrei scrivere cioè io posso comunque ma devo farlo in modo esplicito capite sono io che l'ho pensato e l'ho voluto il costruttore senza parametri se invece decido no eh qualunque modo di costruire il dado non può svicolare dal fatto che mi devi dire quante facce ha in modo esplicito va bene questo compilatore ti aiuta a forzare come controllo questo non accetta più devo dire che ne ha 4 che ne ha 6 quello che vuoi così questo sì se ora compilo il compilatore si quieta ma guardate adesso quanto è semplice aggiungere un secondo a limite con un vettore di dadi dico beh se questa è una variabile come posso fare col fluto double string o due non potrò forse fare così certo che puoi fare così di due questo è un altro dado automaticamente pronto all'uso quattro facce ma sono sicuro che funziona bene perché il meccanismo della classe non mi tradisce adesso posso anche lanciare questi dadi facciamo un lancio doppio quindi lanciamo l'oggetto e non posso sbagliare quindi a chiamare lancio dado l'ho già spiegato prima punto l'accesso con questo tipo di implementazione come quello dell'extract non cambia nulla potrei anche farlo dinamicamente con la new come abbiamo visto per chi ha seguito la playlist su C++ in modo dinamico lo vedremo più avanti per non complicare troppo le cose qua dall'elenco scelgo il metodo pubblico che posso usare non devo specificare nessun parametro perché il dado sa quante facce ha è tutto più pulito tutto più tranquillo lancio secondo dado lo stesso modo mettiamoci un po' di spazio tra l'un e l'altro e lancio anche secondo dado e voilà lancio il primo dado 5 e 1 è il risultato del secondo lancio è o non è più naturale o o non ho ridotto la distanza tra il modo di concepire e progettare e realizzare un oggetto nel mondo reale e così com'è tradurlo nel codice direi di sì ma c'è molto di più e lo scopriremo insieme nelle prossime puntate e lo scopriremo insieme